L'assessore all'istruzione Alessandra Sagarese, c'è? Non c'è, abbiamo tanto una pronta sostituzione quindi l'assessore alla cultura Stefania Dottario, c'è? Manco c'è al posto, lo consiglio io, va bene il sindaco, va dalla premiazione, ritira il premio, un gruppo di alunni ok, ci sta un gruppo, un piccolo gruppo, facciamo un applauso appunto a questo primo premio facciamo una foto di Vito insieme alla gara di Vito si, foto effettuata e adesso